non sono tutte elettriche le cinesi la dfs k glory 600 ea benzina e anche una versione plug-in che vedremo dopo e conservano il benedetto motore termico 1.5 turbo da ben 185 cavalli questa colori 600 il top di gamma a sette posti e sarà disponibile anche in versione gpl fsk è un nome strano è un acronimo di dong feng so con automobile quindi è una dog feng sostanzialmente e fa parte del gruppo seres che come sappiamo produce anche delle supercar la glory 600 è un su di segmento di ea un design abbastanza importante soprattutto nel frontale diciamo che la parte laterale posteriore è un po simile a tante altre vetture dello stesso segmento però un frontale molto personale e soprattutto a un interno molto appariscente molto lussuoso nell'aspetto anche se vedremo i materiali magari non rispecchiano la qualità che si dovrebbe avere però il prezzo parte da meno di 30 mila euro quindi bisogna anche capire che la sostanza è la cosa più importante infatti la vettura presenta un gran comfort di marcia e soprattutto a tanto 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 spazio all'interno anche se sedile posteriore stanno comode due persone dietro ci stanno due bambini però i sette posti anche per brevi spostamenti sono garantiti nei lunghi viaggi meglio viaggiare in cinque con tanto 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 bagaglio su strada la dfsk glory 600 offre soprattutto un gran comfort si viaggia in assoluto silenzio e con un andamento progressivo molto normino i 185 cavalli francamente non si sentono la vettura ha un cambio cvt che però non si imballa come i soliti cvt è molto un fluido probabilmente i progettisti sono riusciti a creare un nuovo modo di essere nel cambio cvt che sappiamo è a variazione continua di rapporti quindi non ha le marce non è una vettura sportiva assolutamente non bisogna aspettarsi lo sterzo non è molto sensibile non in vita insomma una guida brillante ma molto soft e l'unico difetto che abbiamo trovato e magari qualche riflesso di troppo nel parabrezza per il resto per chi vuole viaggiare da buon padre di famiglia è una vettura sicura affidabile molto 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 robusta tanto più che la casa offre ben cinque anni di garanzia o 100.000 km il che francamente è un valore aggiunto anche rispetto al prezzo ma adesso vediamo ancora la vettura andare su strada e in futuro magari proveremo la versione plug in che offre circa 60 70 km di autonomia è un motore per complessivi 177 cavalli certo costa da 36.000 in su quindi è più caro ma per chi ama le ibride plug in con tutti i vantaggi che possono andare nell'ingresso dei centri storici e nelle zone a traffico limitato insomma è anche quella una vettura sempre con sette posti cerchi da 19 soprattutto entrambe hanno tutte gli adas tranne la frenata automatica tutti gli adas e le dotazioni di sicurezza delle vetture più moderne nonché la connettività e anche la ricarica wireless del cellulare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti